eccoci qua buongiorno oggi 4 novembre del 2019 il busto del nostro aerogico concittadino Barone sta per essere sistemato nel suo posto originario ecco come vedete è stato ben restaurato e fa poco i nostri amici lo sistemeranno sulla colonna nella speranza che possa rimanere negli anni in questa piazzetta nella sua inaugurazione sono trascorsi 110 anni si prima vendiamo il busto poi mamma non lo scopriamo non lo scopriamo state messaggiate ecco ci siamo ci siamo ecco Antonio Barone è ritornato al sole e viva Barone e viva Barone Antonio e non è uscito ma è uscito è un po' di bollone e adesso non si vada a girare ancora non si vada a fattiare cala guarda, abbassa non mi vuole ancora non la metti non ci vuole ancora e ma qua appoggiavo si no, lo appoggiavo appoggiavo se fai su capo a tenere meglio no, da un punto obbligato un punto obbligato, va bene ok un po' subitare si dimmi ora di 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 l'industria sta per essere fissato in l'industria ora di ora di ora di ora di ora di ora di ormai Ecco, anche la scritta sulla colonna è più invisibile adesso. Antonio Barone è un esempio di eroica abnegazione e di virtù militare, qui sacrificando la vita doveva la sua memoria in virtù. Gioia Tauro, 9 febbraio 1887, 8 febbraio 1909. Il dono del principe Vittorio Viagarine, il dono del principe Vittorio Viagarine, il dono del insegno di ammirazione e di fraternità umana. Principio di Gioia Tauro, riconoscente. Ecco, adesso si nota e si legge bene tutto. Mentre i bimbi stanno facendo le prove, il dono del principe Vittorio Viagarine, il dono del Intorno alle ore 11 avverrà l'inaugurazione del busto restaurato di Antonio Barone. Stiamo testimoniando la sistemazione appunto per questo momento in suo onore. Bombo e anche a Bit. Dopo uno, c'è il paio che è venuta, e si viene riportando questa epipola il busto Per questo momento, come riporto la nuova, l'inaugurazione del busto Poi sentite il punto di taglio del busto reggio, l'inaugurazione del busto Che fai un'oppiamento del busto regolino? Per il punto di taglio del busto regolino. Grazie a tutti. E' a voi. Ecco qua la signora ha preparato anche il lettelo. E' il merito della signora. E' il merito della signora. E' il merito della signora. Ecco qua pronti. Antonio Barone riceverà l'applauso anche oggi, dopo 110 anni riceverà l'applauso ed il ricordo dei suoi concittadini. La borsetta è... E' il merito della signora. 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 Gli ultimi ritocchi al telo da parte della signora. E' il merito della signora. E siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. E' il merito della signora. credo che abbiamo veramente concluso questo momento dicevo più tardi verrà onorato il nostro Antonio Barone ecco i ragazzi si stanno preparando in questo momento di festa ecco la festa è iniziata il nostro Barone Antonio sarà sicuramente contento di questa manifestazione in suo onore ecco bene a più tardi a più tardi per la inaugurazione